ciao bella gente io sono legno gamer bentornati in questo canale oggi giocheremo a dirty rally 2.0 andiamo un po proseguiamo la carriera sono in portogallo pista non l'ho mai fatta sono molto curioso di vedere come si comporterà la macchina vedo asfalto misto a terra il pezzo dove sottolineato di giallo è il giro jolly da completare da fare almeno una volta bisogna studiare se la strategia migliore bello questo video introduttivo queste sono naturalmente le le corse che fanno veramente bella inquadratura qualificazioni per vedere come partiamo vedere che possiamo partire iniziamo bene dai cominciamo controllo radio ok pronti a partire vediamo come ci comportiamo con questo circuito del portogallo non l'ho mai fatto naturalmente lo provo per la prima volta insieme a voi ovviamente come i pazzi si va sempre come i pazzi ecco qua guarda che col fumo dall'altro che dà fastidio il polverone che tira su non si vede parietà la strada non si vede parietà la strada vale intanto si stanno allontanando continua a spingere oh questo perile non l'ho visto mica no ma perché maledetto maledetto se ti piglio prova a mettere pressione all'auto davanti prova a mettere pressione all'auto davanti ma è mancato l'uscita non è valido dovrei rifarlo che casino sta pista che è che casino sta pista che è se riuscissi a guadagnare un secondo scaleremo un'altra posizione forza aumenta il passo non è vero non è vero non è vero ma andiamo a sfunghi mamma mia che disastro ma queste erano le qualificazioni bene amici del canale di youtube io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video vi ricordo che potete iscrivervi al canale schiacciando il tasto sotto il video iscriviti attivando la campanella noi ci si vede al prossimo video ciao ciao